e ciao zi per dove potevamo partecipare tutti quanti ormai ho stato mettito i libri senza libri da un'ambuletta non avevo su esse e ti ripetiti ti chiamo la madre senza pezzetto ti chiedi la mano stai pagando bravissime ecco qua siamo sulla stessa caccia ciao carinari ok se è forte Francesco è forte con Zinico voglio avere un'ambuletta bene il mondo è remoto e brutto ieri è potente lì siamo siamo spesso te li vedi? ah ah Francesco sei la sua mette aspetta che stai mettendo ce l'ha nella pennetta c'è la mia una pennetta è questa buonasera signor cosa volete salvare con il Facebook youtube per il termine se si scappa di via su o alza e pagina sa pagina solo per i tuoi tt tt sei pronto? è pronto? prende chi sta per cuore amma di sapere è la parte ecco qua lo sogniamo si ecco guagliu si dico gli facci i o e lui ci dà ah ma non gli in mano guagliu posso scherzare con voi? se non posso scherzare non vedi vicino a voi chi è che ha il sanno non posso scherzare? sicuro? faccio un reghetto vai Francesco guarda sei scelurato alla cucina guardi che è morta vai è il sabba sei il sabba sei venti in mano lei venga come è bella in campagna c'è la donna è granata è una camessa è un bandaccio con i bassi di gola ti ho ti ho ti ho di giugia che riva è calvata e bella e c'è anche la bellissima è un bandaccio con i bassi di gola oh 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 Francesco scusate Francesco non ci sta per cuore tutta qua bene allora raggi non mi piace sarà grande non mi piace è ora tu prendo la bellissima cada le tivino non mi piace ti prendo la bellissima calavano non mi piace lò siamo giudere ci ha brandi cosa è come vanta tu non mi piace ma non mi piace non mi piace perché che siamo giudere non sai non mi piace non si AMO che non si non si AMO sta in giudere o no asiline sono Buonasera. 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 Facciamo l'inglese! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti